Il mio discorso introduttivo e non spenderò neanche tempo a cercare di spiegarvi che cosa voglia dire essere un'istituzione attiva su questo argomento perché noi lo siamo stati, lo siamo stati dall'inizio, abbiamo raggiunto grandi risultati perché in questo periodo e con questo secondo parere l'Europarlamento si è molto aperto al nostro punto di vista a ciò che abbiamo fatto e la stessa cosa è stata fatta dalla Commissione. Quindi con questo mio discorso introduttivo io volevo semplicemente ringraziarvi per l'impegno che avete messo su questo argomento dall'inizio, per l'impegno che ci metterete anche stasera ma soprattutto perché grazie a questo impegno politico che per la prima volta una Camera, una istituzione si è presentata a parlare di sharing economy con consapevolezza e con unitarietà e credo che questo sia l'obiettivo politico più importante che possiamo raggiungere quando vogliamo veramente cambiare le cose. Stasera ci siamo già detti una volta da questa posizione della sala che bisogna lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Io sono certo che sul tema della sharing economy tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi è proprio servito e servirà per lasciare un segno. Se il segno lo lasciano gli enti locali penso che questo possa davvero fare la differenza specialmente su un argomento come questo che è nelle nostre strade che è di fronte alle porte dei nostri municipi e che entra nella vita dei cittadini. Per cui vi ringrazio moltissimo e ringrazio soprattutto la staff del PSI che mi ha seguito e il mio esperto Vanessa Cantella che mi ha fedelmente aiutato in tutto questo percorso per fare in modo che anche tutte le vostre istanze fossero inserite in questo documento. Per cui per me possiamo cominciare a votare. Grazie a tutti.